Ho fatto anche mio zio Rupert, Marco, ciao Marco Monta pure, smonta, si chi è? Ah, buonasera, buonasera Poi fate pure perché ormai qui sta finendo tutto Ma voglio dire, ma che roba è? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Viene una gigantografia qui di Cesare Cadeo, abbiamo detto Ragazzi, ecco, sono lì dietro, l'abbiamo sistemata Ah, bella, bella cravattina, cosa c'ha? Il numero 14 dietro La cravattina, forza, via, ecco così, facciamo E' perché dobbiamo stringere i tempi, fra un po' gioca a Sampdoria C'è solo la pausa di mezzo Scusa, Marco, concordi con quello che ha detto pasticcio su Genova Udinese Che partita è stata? Genova Udinese, è stata una bella partita, ci siamo divertiti C'è stata un po' di discussione su un fallo da rigore a favore dell'Udinese Genova è stato bravo, è stato bravo Poi c'è stato anche un po' di barahonda Perché Pietro Leonardo, il direttore generale Ha detto, quest'arbitro qui ai roldi non lo vogliamo più Oh, niente qua, c'è più inizio Allora, per favore, siccome ormai siamo in preda a sostanze altamente tossiche Perché qui siamo veramente al tossico puro Scusa No, proporrei l'antidoping anche per i giornalisti Eh, l'antidoping, qui ci vuole l'antidoping anche per i giornalisti Allora, a questo punto io passerei al caso di giornata Allora, a questo punto io passerei al caso di giornalisti